Jessica Tomasi, dopo l'esperienza positivissima di Torino, ci si prepara adesso per un'Olimpiade, mancano 29 giorni alla cerimonia d'apertura, qual è lo stato d'animo? Beh, in questo momento sono soddisfatta perché fino adesso non sapevamo neanche noi, non eravamo a conoscenza della squadra, quindi c'è stata dichiarata qua, quindi è una soddisfazione. Una soddisfazione e già un traguardo è stato raggiunto, adesso si tratta di raggiungere un altro, di continuare a sognare perché siamo pieni di sogni e noi vogliamo arrivare a Londra preparati al massimo, quindi sfrutteremo questo mese al massimo per le nostre potenzialità. Sarà sicuramente caccia aperta all'Italia in quanto avete vinto il titolo mondiale, ma sapete come sopportare la pressione? Beh, per me è la prima Olimpiade e quindi lo vedrò là insomma come sarà la pressione effettiva. Già ho fatto la prova al test olimpico, la proolimpica di Londra l'anno scorso ottobre, è stato emozionante, è stato bellissimo perché il campo è spettacolare, abbiamo un po' visto riprodotto quello che sarà il palco scenico delle Olimpiadi, quindi è stato già emozionante là. Quest'anno vediamo, insomma speriamo di riuscire a gestirla al meglio anche là, faremo di tutto anche da quel punto.